Una sconfitta che pesa come un macigno e che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro, perché contro questo avversario, che va detto chiaramente non ha rubato nulla, l'Avezzano avrebbe dovuto portare a casa i tre punti e invece i bianco-verdi non sono stati capaci di strappare, neppure un misero pareggio. Colpa di chi? Colpa di che cosa? Colpa di tutto e di tutti, perché se no riesci a buttare dentro uno straccio di pallone, neppure a porta vuota, e poi ti fa infilzare come un tordo il riferimento e alla gara di Forlì, non serve cambiare allenatore. Con questo organico forse sarebbe in difficoltà anche Murigno. Eppure qualcosa di buono i marsicali l'hanno mostrato anche oggi, ma quanto a fare gol, inutile pensarci. Il 4-3-3 di Colavitto prevede anche i ripiegamenti di De Roccis e Manari in fase difensiva e nel primo tempo il dispendio di energie è notevole e la prima opportunità capita a De Roccis sul rinvio di Pasqualini, ma la girata del numero 7 termina sopra la traversa. Angolo per Reyesina al nono, in area svetta l'avanzato Nonni che di testa si rende pericoloso, anche perché su di lui non c'è un'adeguata marcatura. Diciottesimo, Manari riceve sul centro-sinistra, avanza e prova da molto lontano ma con scarsa fortuna. Altri due minuti e Grazioso in buca per Padovani che crossa, la palla finisce poi sui piedi di Manari che viene atterrato, ma l'arbitro ammonisce il bianco-verde per simulazione. Ventunesimo, cross di Manari dalla sinistra per Padovani che di testa sfiora il bersaglio. E alla mezz'ora esatta, l'Avezzano ha portata di mano la palla per passare in vantaggio, ma su assist di Di Nicola, Bruni impatta come peggio non si potrebbe e la palla schizza via ben lontana dalla porta di Anconetani. Passiamo adesso alla ripresa, l'Avezzano vuole i tre punti e al quarto De Roccis al termine di una iniziativa di Di Nicola che crossa dal fondo, prova la mezza girata ma mette alto. Per la Iesina c'è questo tentativo di Villanova che sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone che crea pericolo in area marsicana ma senza fare danni. L'Avezzano non incide in avanti e Manari conferma di essere nella classica giornata no. Al diciottesimo è ancora Di Nicola che si mette in luce, il terzino riceve da Kras salta l'avversario e di destro calcia alto di poco. Poco dopo Colavitto toglie l'impalpabile Manari per Conti e poi Bruni per Samb ma le cose non migliorano assolutamente. Tentativo di Grazioso dai 25 metri, alto anche questo pallone. Mezz'ora esatta e guardate cosa succede, il pallone parte dalla sinistra e finisce dalle parti di De Roccis solo come un'eremita del Tibet. Ci sarebbe il tempo di stoppare e piazzarla ma il ragazzo generoso peraltro prova la botta al volo con i risultati che vediamo. I commenti della tribuna ve li risparmiamo ma potete immaginarveli tutti. Quest'azione è un po' l'emblema dell'Avezzano di quest'anno e un paio di minuti dopo è ancora De Roccis che stoppa e tira su assist di Nicola ma la fortuna si gira dall'altra parte e la deviazione decisiva di Anconetani spedisce la palla a picchiare contro l'incrocio ma senza fare danni. La beffa è in agguato e si materializza puntuale al quarantunesimo. C'è un errore bianco-verde in fase difensiva che consente il contropiede ospite. Fanti è bravo a respingere la prima conclusione di Cameruccio ma non può fare nulla sulla ribattuta di Pierandrei a porta vuota. All'Avezzano frana letteralmente la terra sotto i piedi e il baratro si materializza sia in campo che in tribuna. Al termine manca ormai troppo poco e a nulla vale il disordinato assalto che il povero Crassa si sforza di organizzare per agguantare almeno un pareggio. Ci prova Samb di testa al cinquantunesimo ma con lo stesso risultato dei tentativi precedenti. L'eccellenza chiama ma bisogna avere la forza di non rispondere perché è ancora tutto possibile. Al termine mancano sei giornate. È arrivato per primo Davide Ciampelli, tecnico ospite. Allora, Iaisina porta a casa tre punti che significano salvezza quasi matematica. Che partita è stata? Forse era più giusto un pareggio? Beh, io vorrei fare innanzitutto i complimenti ai miei ragazzi perché credo che ci sia da fare complimenti non tanto per la partita di oggi e che è stata difficile molto perché l'Avezzano è un'ottima squadra. Gianluca Colavitto ha fatto un ottimo lavoro perché ha ridato nuovamente l'infa ad una squadra che era in difficoltà. Però voglio fare complimenti ai miei ragazzi perché venire qua oggi, sapendo che l'Avezzano si giocava tanto e aver fatto una prestazione così tosta, così tecnicamente non è eccelsa, però una prestazione cattiva calcisticamente, di squadra, di spessore. Potevamo fare meglio in alcune situazioni, abbiamo rischiato molto perché è l'Avezzano quella che gioca a calcio e ha creato. E noi oggi forse ci ha assistito un po' quella fortuna che nel giro di andata c'era mancata. Però devo dire che vincere questa partita in questo modo è il modo più bello per questi ragazzi per provare a completare il nostro percorso. Siete salvi quindi? Salvi siamo a 45 punti, ne mancano tre. Io e i miei ragazzi dopo Giulianova ho detto una cosa, che la vittoria con Giulianova ci dava la possibilità di chiudere il discorso nelle prossime partite. Oggi è andata, domenica abbiamo un agnonese che verrà a giocarsi come ha fatto l'Avezzano oggi tanto e noi altrettanto. Aria pesante in casa bianco-verde, il DS Mauro Traini, una sconfitta che significa tanto, che ha messo ancora una volta a nudo le pecche di questa squadra. Sicuramente sì, oggi ci ramarichiamo nuovamente per gol sbagliati a porta vuota e purtroppo non possiamo fare niente e ci gira in questo modo. La stessa cosa è successa già a Francavilla, la stessa cosa è successa a Forlì, è successa oggi. Purtroppo non possiamo fare niente, gli altri la buttano dentro o a prima occasione noi non ci riusciamo. Io non ho mai parlato degli arbitri quest'anno ma comincio veramente a avere le tasche piene di arbitraggi come in questo modo. Sei fuori gioco, non segnalati, un calcio di rigore nettissimo neanche, per anzi addirittura prendiamo l'ammunizione noi. È tutta una serie di situazioni che si stanno creando. Certo gli alibi non servono a niente, la verità è che oggi abbiamo fatto anche un primo tempo bellissimo secondo me, contro una squadra ben messa in campo che sta dimostrando che ha perso una partita sola nel girone di ritorno a Cesena. Però rimane il fatto che abbiamo fatto una buonissima prestazione e poi purtroppo se la palla non si butta dentro è aperta. A livello psicologico una sconfitta del genere che cosa può significare? A livello psicologico non significa niente perché ogni volta siamo riusciti sempre a riemergere da situazioni difficili. No, perché stiamo così dall'inizio, quindi chiamiamo a Montice Pugno, sono arrivato. Non è tanto la faccenda solo mentale, è proprio una faccenda che non riusciamo veramente a... Facciamo anche buone prestazioni, quindi questo significa che la squadra è viva e tutto quanto. Però non basta, non basta perché non riusciamo mai a concretizzare il gioco che noi facciamo. Non è un alibi, vedremo come dovremo intervenire, vediamo adesso cosa deciderà il mister, la società, vediamo. Però Mauro, una volta è sotto accusa alla difesa, vedi domenica scorsa, insomma si prende golla addirittura da fallo laterale, una volta è sotto accusa all'attacco, oggi qualche occasione c'è stata ma se non la butti dentro, il povero allenatore che ti può fare? No, no, niente assolutamente. Io ho detto appunto che noi abbiamo fatto una gran partita, l'ho detto subito, il problema è buttarla dentro. Noi non ci riusciamo con 4-5 per poi alle parole, a palla e golle gli altri con una ci riescono. Questo è il momento, dobbiamo prenderne atto, vedremo come dovremo agire, sono rimaste 6 partite, tanto sono 6 lotte, perché non è che oggi la partita era più facile di quella di domenica. Domenica partita difficile, oggi era altrettanto difficile. C'è il rammarico di non averla chiusa il primo tempo, perché potevamo chiudere il primo tempo, loro non hanno fatto un'occasione, sono andati due volte in contropiede, tra l'altro una ci hanno fatto anche il gol. Non c'è nulla a dire, come dico sempre io, tanto la salvezza arriverà alla fine, speriamo in qualsiasi modo, ma bisogna rimborcarci le maniche e lavorare, tutto qua. La questione mentale non ci può stare, non ci deve essere, ci deve soltanto essere tanto lavoro, il mister lo sta facendo in tutti i modi, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Commentare una partita del genere con la Vitto è difficile, insomma le occasioni, l'Avezzano ce l'ha avuto, però se non la butti dentro, con chi te la prendi? Il povero allenatore più di tanto non credo che possa fare. È una sconfitta comunque che pesa, pesa tantissimo. Pesa perché comunque i ragazzi hanno dato veramente il cuore per questi colori. però c'è da dire che in questo momento storico, calcisticamente parlando, logicamente i punti sono fondamentali. È chiaro che dopo una prestazione del genere non arrivano, la delusione è tanta. però devo dire che i ragazzi ci sono e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di lavorare da martedì e preparare bene questa trasferta. Insomma in coda alla classifica praticamente pare spacciato solo il Castelfidardo, per il resto siete tutte lì. Quante possibilità ci sono di uscirne fuori, di evitare la retrocessione diretta almeno? No, no, ma noi ci metteremo tutto il nostro impegno per mantenere questa categoria. I ragazzi l'hanno dimostrato oggi con tanta umiltà e con tanta voglia. Quindi bisogna continuare così e cercare di essere più concreti quando ti capita quell'occasione. perché non sempre magari ogni partita hai quelle occasioni 3, 4, 5. Anche l'occasione devi cercare di sfruttarla. Ecco l'occasione, quella di De Roccis per concludere. In quel momento quando ha tirato fuori il ragazzo che avrebbe potuto stopparla, contare fino a 3 e tirare e piazzarla, che cosa ha pensato l'allenatore? L'allenatore cosa pensa? Io spero sempre che i miei ragazzi la buttano dentro. In quel momento non l'ha buttata dentro, quindi il ragazzo è un ragazzo che si impegna. Anzi, devo dire solo grazie per quello che fa in allenamento e per quello che fa in partita.